E' stata eseguita nei giorni scorsi dal personale dei comandi stazione forestaria di Montalto Ufugo, Acri e Cerceto. In provincia di Cosenza una misura cautelare di arresti domiciliari disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza dal dottor Francesco Branda nei confronti di una donna di 68 anni di Cerceto accusata del reato di incendio doloso. In particolare la donna si è resa responsabile di un incendio sviluppato in località San Giacomo nel comune di Cerceto lo scorso 17 agosto e chi è interessato una zona vincolata ad alta rilevanza naturalistico ambientale. Località questa particolarmente controllata durante il periodo estivo degli uomini del corpo forestale dello Stato in quanto più volte colpita dalle fiamme. A tale riguardo grazie all'ausilio di un sistema di videosorveglianza e un'accurata indagine coordinata dal procuratore capo Mario Spagnolo e dal procuratore aggiunto Marisa Manzini e condotte dal pubblico ministero Donatella Donato sono state raccolte a carico della donna le prove che hanno consentito di individuare la responsabile dell'incendio. Telecamere che hanno ripreso infatti l'incendiario scendere dalla propria autovettura e mettere fuoco sul ciglio della strada con un accendino per poi darsi alla fuga. L'incendio in questione ha poi visto impegnati per le operazioni di spegnimento per diverse ore i vigili del fuoco e gli uomini del corpo forestale per le indagini.